Ok ragazzi benvenuti in questo nuovo video, oggi è uscito ADE, quindi il nostro nuovo programma di allenamento in questo video ve lo presento, ve ne parlo un po' e vi spiego come è strutturato e come funziona Come tutti i nostri programmi ADE non è un programma per tutti, non è uno di quei programmi che si prendono, si stampano, si riapplicano in palestra e si ottengono risultati assolutamente no, ci sono tanti piccoli step in mezzo che devono essere fatti, in primis la riapplicazione su di voi per le vostre esigenze specifiche del programma ma su questo arriveremo tra un attimo, che hanno un carattere formativo perché realmente la nostra mission è tutto quello che noi facciamo ha e vuole avere un carattere formativo, vuole darvi un know-how di base, vuole portarvi a comprendere e conoscere quello che è il bodybuilding e darvi degli strumenti per poi riapplicare tutto quanto da voi perché soltanto se conoscete il motivo delle cose allora le farete esattamente come devono essere fatte se no rimanete delle pecore che fanno quello che gli si viene detto ma realmente non lo fanno bene perché non sanno tutto quello che c'è dietro e quindi ADE si basa come tutti i nostri programmi proprio su questa falsa riga quindi questa è una presenza molto molto importante ora detto questo cerchiamo di capire come è strutturato come tutti i nostri programmi è un programma che va personalizzato quindi all'interno di ADE ci sono più di 200 allenamenti logicamente non preteniamo che li facciate tutti ma sono degli allenamenti che voi andate a strutturare e dovete scegliere tra gli stessi per impostare la vostra split sono divisi in 18 settimane di lavoro quindi è un programma che di media dura 18 settimane ora quello che voi dovete fare come gli altri programmi è analizzarvi individuare quelle che sono le vostre esigenze i vostri distretti che sono carenti i vostri distretti che stanno più avanti quelli che stanno bene diciamo i distretti ok tra virgolette e sulla base di quella che è la vostra struttura le vostre esigenze la vostra performance eccetera andrete a strutturare ciascuna di queste 18 settimane attingendo proprio a questi allenamenti che logicamente sono divisi per settimana e settimana quindi avete tot allenamenti nella settimana 1 andate a comporre la vostra split tot allenamenti nella settimana 2 andate a comporre la vostra split eccetera eccetera come è strutturato ADE in cosa si differenzia rispetto agli altri programmi è un programma che si basa su uno splittaggio in push pull legs quindi una giornata di spinta una giornata di trazione e una giornata dedicata alle gambe ora nello specifico quello che ho fatto proprio perché ne ho già parlato spesso su Rhinonation la push pull legs è un'ottima split probabilmente la split in assoluto migliore per mettere massa ha un limite che permette di mettere tanta massa ma massa in generale sulla base di quelle che sono le vostre tendenze ossia mi spiego meglio se siete delle persone che tendono a sviluppare molto le braccia piuttosto che il petto piuttosto che le gambe eccetera allora con una push pull legs crescerete tantissimo ma sui distretti che sono più portati a crescere per voi proprio perché è una split piuttosto uniforme mentre invece quello che normalmente si dice che è il massimo equilibrio nel bodybuilding si ottiene con uno squilibrio nell'allenamento ossia dare una certa priorità ai distretti carenti è una cosa che abbiamo fatto un po' su tutti i nostri programmi di allenamento a dire il vero come strutturato nello specifico per ogni micro ciclo di lavoro quindi quello che normalmente viene identificato come la settimana di lavoro ma in ADE come vedremo si basa più su due settimane un arco di periodo un po' più lungo per ogni micro ciclo dicevo avrete due rotazioni in push pull legs quindi avrete push 1 pull 1 legs 1 push 2 pull 2 legs 2 che sono delle rotazioni che si ripresenteranno ad ogni micro ciclo per ciascuna delle settimane quindi per esempio se nella prima rotazione di gambe legs 1 avete una squat e nella seconda rotazione avete una pressa allora nel primo micro ciclo avrete la squat in legs 1 la pressa in legs 2 nel secondo micro ciclo si ripresenterà la squat in legs 1 la pressa in legs 2 nel terzo micro ciclo si ripresenterà la squat in legs 1 e la pressa in legs 2 e via discorrendo in questo modo in ogni micro ciclo non avete sempre la stessa sessione di gambe che si ripresenta ogni settimana in poche parole ogni singola sessione si ripresenterà in un arco di tempo più lungo e potrete progredire meglio senza incorrere in stalli quindi per ogni microciclo due rotazioni di push pull legs oltre a queste due rotazioni avete dei workout addizionali che non sono splittati in push pull legs ma sono settorializzati su ciascun distretto muscolare quindi workout addizionali di petto, uno di dorso, uno di gambe, uno di braccia, uno di spalle eccetera eccetera perché questo? Perché se io per esempio sono carente sulle braccia allora il mio microciclo lo stuttererò in push pull legs questa è la base che devo inserire e poi andrò a inserire un addizionale di braccia in modo da dare uno stimolo in più sul distretto muscolare che per me personalmente è carente ancora se sono le spalle e le braccia allora inserirò un addizionale spalle e braccia oppure un giorno addizionale di spalle e un altro giorno addizionale di braccia in base a quella che è la vostra frequenza di allenamento quindi quanti giorni potete concretamente andare ad allenarvi all'interno della settimana all'interno del vostro microciclo e oltre a questo, quindi due rotazioni, workout addizionali avete anche dei richiami, richiami di nuovo fatti sul petto, sul dorso grandorsale, dorso piuttosto che centroschiena richiamo fatto sui quadricipiti, richiamo fatto sui femorali, sul deltoide anteriore deltoide laterale, insomma i richiami sono sicuramente molto più settorializzati di nuovo per andare a inserire un ulteriore stimolo se vogliamo, su un distretto che è veramente particolarmente ostico oppure magari un distretto che è ok per esempio ok, c'ho il petto che non è proprio un distretto che è avanti però non è neanche un distretto carente allora inserisco le mie rotazioni invece di inserire un workout addizionale inserisco un richiamo quindi sostanzialmente qual è il concetto? che ADE ha una struttura in push-pull legs con l'aggiunta di workout addizionali di richiami in modo da poter personalizzare tutto quanto sulla base delle vostre esigenze ora, per chi non ha mai utilizzato i nostri programmi può sembrare un discorso che è complesso però, due punti il primo punto non è così complesso come credete perché nel programma è spiegato tutto nel dettaglio nell'introduzione quindi c'è anche il gruppo Facebook a supporto in cui vi diamo una mano per impostare la vostra split eccetera eccetera però vi assicuro è molto più semplice di quanto credete e secondo luogo, l'ho detto all'inizio questo non è un programma per tutti quindi se vi aspettate un programma che sia fatto per voi strutturato che semplicemente prendete e riapplicate in palestra allora chiudete questo video perché non è la nostra filosofia di lavoro ok, detto questo la struttura di base di ADE è una struttura come detto che si basa su 18 settimane di lavoro in cui le prime 9 settimane sono dedicate a una fase di costruzione dei carichi quindi costruzione dell'effort dell'intensità in cui il volume va a diminuire gradualmente in modo da riuscire a sollevarvi più e a spremervi di più in ogni singola serie e poi la seconda parte dopo un piccolo scarico che viene posto nel mezzo la seconda parte è una parte di transfer ossia tutto questo bagaglio questa trasformazione questo guadagno in termini di forza di intensità l'andrete a trasferire su lavori più densi e quindi quello che aumenterà in maniera esponenziale sarà il tonnellaggio per cui costruisco una base di forza e shifto su lavori più densi aumentando drasticamente il tonnellaggio e questo vi darà un effetto di boost metabolico e di boost in termini ipertrofici veramente veramente importante quindi è un programma che anche da un punto di vista di struttura si differenzia dagli altri come detto ragazzi i programmi sono differenti perché si prevede che andrebbero fatti in ordine cioè si parte da Zeus che è un programma che insegna a modulare bene l'intensità e il volume Kratos è un programma che insegna bene a gestire un'alta intensità di lavoro e costruisce dei carichi veramente veramente importanti e Ade come avete visto è un transfer di tutti questi carichi di tutto questo bagaglio di esperienza che avete fatto su lavori un po' più densi quindi uno step ancora successivo che vuole aversi è un programma dedicato all'ipertrofia e abbiamo inserito anche la parte alimentare una parte alimentare che è diversa rispetto a Kratos nel senso che non solo viene insegnato esattamente come gestire i vostri macros nei giorni on piuttosto nei giorni off quindi giorni di allenamento e giorni di non allenamento ma ad ogni settimana del programma prendendo un piccolo esempio di un ipotetico atleta di 80 kg eccetera faccio vedere come modificare i vostri macros in base a quelle che sono le richieste del programma quindi una parte alimentare che è sicuramente molto molto più dettagliata rispetto agli altri programmi che è una cosa che avete chiesto in tanti e vi può dare soprattutto una mano a gestire il programma di ipertrofia nel migliore dei modi tutta la parte alimentare è impostata per far sì che venga mantenuta e ottimizzata la sensibilità insulinica quindi ok andremo a spingere tanto a livello di alimentazione però vogliamo mantenere tutti i parametri di salute in maniera più efficiente possibile quindi c'è un focus che viene dato sulla Cigirazzo il rapporto carboidrati grassi un nutrient timing l'ammantenimento della glicemia stabile nel corso della giornata una divisione di giorni on giorni off insomma tutte quelle chicche necessarie per spingere tanto a livello calorico ma far sì che tutte queste calorie tutti questi macros vengano effettivamente utilizzati nella maniera più ottimale possibile dal vostro corpo e questa è la base in assoluto dove tutti tengono a cadere quindi abbiamo deciso di essere molto più dettagliati rispetto agli altri programmi in questa sede proprio per darvi tutti gli strumenti necessari per ottimizzare questa fase di bulk ve lo premetto ADE è un programma che spinge tanto da un punto di vista di allenamento quindi la base calorica richiesta sarà e arriverà ad essere molto molto alta quindi se tendete a mangiare poco avete problemi da un punto di vista di appetito cercate a monte di rimediare vi abituerete sicuramente però cercate a monte di rimediare perché sarà una fase di off-season in cui dovrete arrivare a mangiare veramente veramente tanto proprio per darvi tutta la benzina necessaria per supportare una simile performance ovviamente permettendo che la performance sia ottimale ragazzi questo è ADE il nostro nuovo programma di allenamento qualsiasi domanda qualsiasi dubbio scrivetelo qua sotto sarò veramente ben lieto di rispondere di chiarirvi ogni cosa per il resto trovate tutto quanto sul link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo con i nostri prossimi video come al solito su questo canale grazie a tutti